Al centro del mercato dello spaccio c'era proprio piazza Raffaello a Brindisi dove anche la luce del sole e la droga, principalmente cocaina, veniva venduta e acquistata come in altre agora della città. Da qui appunto la denominazione Square, ovvero l'operazione dei carabinieri del comando provinciale che coadiuvati dai cacciatori di Puglia e dai cenofili di Modugno ha portato all'alba 16 arresti di cui 7 in carcere, 9 i domiciliari, eseguiti anche a Melfi con Versano Trani e a Ulla in Toscana, tutti accusati come da ordinanza emessa dal GIP su richiesta dalla procura di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. I militari avrebbero smantellato una rete articolata e complessa con la cocaina che veniva smarciata anche di giorno nelle principali piazze di Brindisi, dove secondo gli investigatori la droga veniva occultata all'interno di numerose basi logistiche. Un'indagine condotta mediante servizi di osservazione, pedinamenti, controlli, il tutto assieme a attività tecniche di intercettazione. Vorrei ricordare che l'attività odierna è la naturale prosecuzione di un'indagine che già nel maggio 2021 aveva portato all'esecuzione di un'altra misura cautelare nei confronti di 29 soggetti. L'attività che ha visto la luce oggi ha fatto emergere, ha documentato numerosissimi episodi di cessione di stupefacenti. Per lo più l'attività di spaccio avveniva nelle ore diurne, nelle piazze, nei luoghi convenuti, mediante telefonate, utilizzando social. Tra il settembre 2020 e il luglio 2021, insomma, i carabinieri hanno osservato, pedinato, intercettato e controllato i traffici del gruppo di spacciatori, sequestrando oltre un chilo di coca destinata alla piazza Brindisina, appunto, Square.